Non solo ma la sanità in un periodo così drammatico per il settore in Sicilia arriva una buona notizia, sarà attivo da oggi il primo centro per il disagio e il trattamento del disturbo dello spettro autistico dell'ASP di Ragusa. Lo scorso sabato l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e con la benedizione di Monsignor Paolo Urso. Soddisfatto il direttore generale Maurizio Aricò che ha sottolineato come ancora una volta Ragusa si distingua come realtà d'eccellenza. Una struttura di 700 metri quadri ubicata nella sede dell'ospedale Gian Battista Odierna. Destinatari 10 bambini affetti da disturbo dello spettro autistico di età compresa tra 0 e 6 anni come previsto dalle linee guida regionali per i servizi dedicati. Il percorso abilitativo prevede 10 ore settimanali di intervento diretto su ogni bambino, 2 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Ciascun trattamento avrà una durata variabile trimestrale o semestrale stabilita in relazione alle esigenze di abilitazione di ciascun bambino.